Sì, esattamente questo. È in realtà una campagna di sensibilizzazione sui tumori femminili e maschili. Per il mese di ottobre, come è noto, che è il mese della prevenzione cosiddetta rosa, ci occuperemo di una campagna e porteremo avanti una campagna di informazione prevalentemente sui tumori femminili. Come sappiamo, purtroppo, il tumore alla mammella continua ad essere una grave emergenza su entrambi i fronti, quindi sia maschile che femminile. Andremo avanti con questa campagna di informazione che parte in realtà da un'iniziativa che è nota e conosciuta a livello nazionale, che è quella della LILT, ovvero la campagna del nastro rosa, attraverso la quale veicoliamo e teniamo alta l'attenzione sul messaggio che deve arrivare forte e chiaro, ovvero che la prevenzione è l'unica arma che abbiamo effettivamente a disposizione per salvare le vite. Quindi nel mese di ottobre il palazzo della provincia sarà illuminato simbolicamente di rosa per individuare la prevenzione dei tumori femminili e durante invece il mese di novembre sarà illuminato d'azzurro per veicolare il messaggio di prevenzione rispetto ai tumori maschili. Ci saranno una serie di iniziative di divulgazione, informazione e sensibilizzazione a tutti i livelli, quindi anche con il coinvolgimento della provincia come amministrazione. E nello specifico sono contenta di poter annunciare l'avvio di un progetto sperimentale che riguarda sempre l'informazione per quanto riguarda la commissione pari opportunità, ovvero l'inaugurazione della bacheca delle pari opportunità, che è stata insediata e voluta fortemente appunto dalla commissione all'interno del palazzo e rappresenta un presidio in realtà libero all'interno del quale tutte le associazioni, tutte le artiste potranno trovare accoglienza e quindi si vengono veicolate tutte queste informazioni, quindi nello specifico attualmente questa bacheca è praticamente implementata con il materiale della Lilt, ovvero con dei fascicoli informativi e divulgativi rispetto a tutte le attività che si possono porre in essere per prevenire le varie tipologie di tumori e per avere informazioni su a chi rivolgersi e in quali tempi appunto per effettuare effettivamente una buona campagna di screening e di prevenzione.